Ciao a tutti ragazzi bentornati al quinto episodio di Minecraft Io ragazzi vi devo ringraziare perché tutti i commenti che mi fate mi rendono proprio contento Ogni volta che mi metto qua a registrare sono proprio felice di farlo Perché so che ci siete voi che comunque mi commentate e mi commentate bene Nello scorso episodio abbiamo perso tanti cuori, come vi ricordate Ma abbiamo queste, le Blazerod, che ci servono per fare le perle dell'end Perché alla fine l'obiettivo finale di questa serie, come sapete, è battere il drago E una volta che abbiamo battuto il drago per noi si può concludere Poi ovviamente non è che terminiamo per sempre di fare Minecraft perché a me piace da morire Poi lo posso portare anche con amici, con mio fratello, insomma Ci stanno mille modi per portare Minecraft e per portarlo in modo intrattenente Comunque se mi sentite io sto meglio, non ho più il covid grazie al cielo Non ce la facevo più, stavo a un passo dalla morte E in questo episodio quello che dobbiamo fare in realtà sarebbe prendere tante perle E a questo fine sarebbe anche utile fare un alambicco Così ci facciamo delle pozioni per noi Ma in più trasformiamo qualcuno di loro, qualcuno di questi villager In uno di quei tizi che ti scambia pietra rossa o cose del genere I clerici si chiamano Perché quelli a un certo punto ti daranno anche le perle Il problema è uno Per fargli sbloccare le perle bisogna fargli un botto di scambi E io il tempo per fargli molti scambi non credo di averlo, sinceramente Però lui vedete, lui non ha lavoro, lui non ha lavoro può diventare un clerico Intanto vediamo, tu spaccati per carità di Dio perché se no mi diventi uno di questi Invece io voglio che diventi un clerico e per fare ciò mi serve della pietra Mi pare, ti devasto la casa E così mi sembra, sì infatti E un alambicco fatto, mi diventi così? Qualcuno mi diventa così? Dai, frate, ti prego, trova un lavoro? No, non gliene frega proprio un accidente di niente Aspettate, fatemi buttare questo via da qui Non so perché ho fatto questo Potevo buttarlo anche lì e bruciarlo, sinceramente Ma intanto spacco qualche albero per le mele Qua dobbiamo stare attenti perché vi ricordo che la vita non ci si recupera Quindi bisogna stare attenti a ogni passo che facciamo Ogni passo deve essere ponderato e scelto Per esempio adesso faccio così, così Qua sotto sarebbe da andarci ragazzi, sinceramente Perché mi serve altro oro Mi serve altro oro E un attimo che vedo come si fanno le pozioni di cura Perché ovviamente è importante Oh, 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 fermo No, frate, veni qua E questi sono scambi del cavolo Questi sono scambi di me Dovrei prendere degli smeraldi da qualcuno Come li prendo però? Io non... Forse quello che mi viene più facile è uno che ti rende gli stick Con gli stick posso fare qualche smeraldo, sinceramente E per fare il tipo che ti prende gli stick Bisogna fare il tavolo del fletcher Quello dell'arco Come si fa? Mi sa con le cordicelle Se non sbaglio, vero? Se è con le cordicelle sto abbastanza messo male Perché l'ho buttata Ce l'avevo nell'inventario e l'ho buttata Come uno stupido Ma intanto dormiamo Intanto dormiamo, che ne dite? Comunque ragazzi Per le cure servono i meloni d'oro Cioè le angurie d'oro E questo non è proprio carino Perché le angurie non ce le abbiamo Tanto meno l'oro Però sono molto utili ragazzi Ci servono in realtà Ma comunque questo bioma è il bioma più bello del mondo ragazzi Bellissimo Bellissimo Guardate qua Comunque no Per il fletching table serve solo la selce Non servono le cordicelle Che stupido che sono Io che stavo pensando Ma facciamolo subito Top Adesso dobbiamo trasformare qualcuno in questo Farci scambi importanti Dov'è? Tu Tu non devi essere più pescatore Tu non devi essere più Oddio Questo che sta a fare qua? Fratello Te non mi servi qua Tu non devi essere pescatore Che Per diventare pescatore c'ha bisogno di questo? Può essere? Mi sa di sì Quindi glielo li metto qua Diventa Diventa un fletcher Fratello mio Dove sei? Sei vabbè Ma che stai a fare? E ti chiudo pure Ah tu Tu sei Sei spoglio di Di lavori Ti prego Dov'è? Ma dov'è? Che fai? Sei entrato? Oh Deciditi Vai 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 Sì 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 Ok Quindi lui è questo Oh Ottimo Adesso sì che lavoriamo Perché io ho tanto legno Mi serve per fare le mele A proposito di mele Saranno disponate Se c'erano Sono sparite No non sono Ci stanno ancora I drops Andiamo un attimo Uno degli stick Tu non mi servi Perfetto Zero mele Ottimo Aspetta che No invece li ripianto Perché intanto che faccio questo lavoro Sicuramente qualche albero mi nasce Perfetto Poi siamo ambientalisti Ricordatevelo sempre Che non è neanche troppo vero Perché a me piace mangiare tanta carne Quindi mi dispiace per gli ambientalisti veri Allora Tu dammi gli smeraldi Dammi altri Dammi ancora Ma ma ce l'ho già gli stick Dammi qua Perfetto Facciamone altri di stick Ottimo Ottimo Dammi altri stick Altri smeraldi Cioè no stick Pem Dammi qua Dammi qua Dammi qua Ancora Dammi qua Dovai? Ok Dammi Perfetto Dammi qua tutto Mi servono Mi serve altra legna Ok Come ho detto Questo Ok io però con 21 smeraldi posso fare gli scambi matti Con questo Con lui Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok Adesso che mi sblocchi Santo cielo Mica mi piacciono tanto sti scambi Eeeh Aspettate un attimo Mi prendo questa cesta che mi serve Anzi prendo il barrel Prendo il barrel E me lo porto lì Piedra rossa non so che cosa mi possa servire Quindi la butto Ok Piede questo Eeeh Tu adesso Mi dai i lapislazzuli Ok ci siamo quasi Io sto anche salendo di livello così A parte non avrò mai comunque i livelli giusti Cioè la carta giusta per fare librerie varie Perché sarebbe ottimo anche Incentarci tutti Ma io non voglio che questa serie sia troppo lunga Deve essere una serie per battere il drago Se vogliamo serie lunghe poi le facciamo fatte apposta Ma questa dovrebbe essere una serie di pochi episodi Sotto i 10 episodi dovrebbe essere Ok questo è ripreso tutto Io non voglio scambiare i loro Proprio no Non c'è verso che ti da loro Però se facciamo diventare Fletcher un'altra persona A parte lui appena fatto Appena resettato i suoi scambietti Aspetta Ok Ok no Dai 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 facciamo presto Uno Non abbiamo tempo da perdere Nove smeraldi Con nove smeraldi Andiamo qua Io prego che questi comunque le venda agli occhi Perché se non le vende è tutto un cavolo che stiamo a fare sta cosa Dai Upgradati Ok Dobbiamo prendergli queste Uno Due E manco tre Possiamo arrivare Il barrel dov'è l'ho preso? Io l'ho ficcato qua dietro Possiamo lasciare questo Possiamo lasciare questo Possiamo lasciare questo Per ora Stai ancora così Questo non metà niente Devo sbloccare lui Sarebbe da trasformare un altro In uno del legno No che cavolo ho fatto? Non mi serviva un'altra di queste Che stupido che sono Mi serviva questa Un'altra Perché così ci trasforma un altro Signorino qua Dove sono i signorini? Qua non c'è nessuno L'assi Guarda che lo metto qua Vicino a lui Questo lo butto via Tu ti prego Tu chi sei? Che lavoro hai? Questo è Lui è questo Mettiamolo qua Hai perso il lavoro? E l'hai guadagnato nuovo? No non l'ha perso il lavoro ragazzi ancora Però io ho bisogno che lo perda Il tipo ha resettato sì Questo ha resettato gli scambi Quindi ci faccio altre cose Però devo spaccare altra legna Devo spaccare altra legna Ma intanto io gli prendo le cose Dov'è il clerico? Eccolo Gli prendo queste Ok Piano piano ragazzi stiamo andando Stiamo andando Stiamo facendo gli scambi loschi Ma questi Li droppano I cil... No Non so ciliegi Non possono droppare le mele Non credo Non credo proprio Però allo stesso tempo Queste sono querce Locke è quercia vero? Quindi non dovrebbero droppare le mele In teoria No? Ci avete mai pensato a questo? Io sì Adesso però Intanto poi posso arrivare pure i golden boots Perché non siamo in nether E non penso di ritornarci A meno che non ci serva di battere qualche enderman Che lì spawnano in quel bioma blu Ma io non intendo farlo Perché ho paura E vi ricordo Se non avete visto l'altro episodio Di andarlo a vedere Perché abbiamo perso molti cuori Molto Molte mele d'oro Ma non abbiamo Perso la serie E questa è una cosa Estremamente positiva Qua non c'è niente Ok Bam e bam Si è fatta notte già di nuovo Di mele non se ne vede la traccia Questo ancora non si è trasformato In quello che dovrebbe essere Lui adesso viene a letto qua Io allora glielo lascio E vado a dormire da solo Tipo qua Sotto il ciliegio Guardate che carino qua Dai Perché si fa qua? Brothers Che si fa? Il bro Non ha cambiato nulla E questo bro invece? Questo bro è completamente senza senso Perché non c'ha nessuna libreria Glielo ho spaccata Fratello mio Ah eccolo È diventato un altro No no Mo ti prendo Mo ti prendo subito Fratello mio Vieni qua Stupido atto Perfetto E tu sei lockato a Fletcher Dov'è l'altro Fletcher? Questo albero lo spacchiamo immediatamente C'è lo stupido maiale Mi serve quello però Con questo scappano Quindi faccio così E poi così Ok E l'albero glielo ficco qua Molto bene Con questo riesco a fare qualche stick Sì Dov'è? Dove sei? Vieni qua Dammi un'altra cosa E adesso con 6 smeraldi Prendo due pietre luci da lui Dammi qua Pam E questo ci siamo quasi eh L'abbiamo quasi sbloccato Ma non so se ce l'hanno tutti le perle del land Se non ce l'hanno tutti Stiamo facendo una cosa inutile Stiamo spre... Oh mela Top mela Benissimo Benissimo Tu ti metti qua Qua spacchiamo un pochino Dagli ragazzi Dagli ragazzi Tu ti metti qua Toppers Qua non c'è una minchietta Ok Non c'è assolutamente niente E questo è diventato un pescatore Ok Ehm... I pescatori che vendono? Scusami Cordicelle E chi ce l'ha? E chi ce l'ha? A te te le spacco adesso Anche se queste foglie non cadranno Vabbè me le spacco da solo Facciamo qualche scambio matto Vai Hai sbloccato qualcosa tu? Fratellone? Sì Niente Anche lui Cordicelle che non avremo mai Con 4 smeraldi non ci facciamo niente Qua ci sono mele? No Però altri alberi mi fanno comodo E li pianto Ehm... Mamma mia ragazzi mia Io ho 3 mele normali no? Io comunque nel land Ci vorrei andare con almeno 5 mele Se non di più Poi bisogna vedere anche se riesco a farle queste pozioni Perché l'anguria non ce l'ho Bisogna andare a trovare le angurie Poi anche lì comunque servirà l'oro Quindi un altro giro in miniera bisognerà farcelo Non so se in questo episodio o nel prossimo Però è inevitabile Bisogna farlo Non possiamo scappare dalla miniera La miniera ci seguirà per tutto il corso della serie Scambiamo Ah comunque ragazzi Non ve l'ho detto prima ma Come vedete nei miei short Appare anche una ragazza no? Quella ragazza non ci sarà più Era la mia fidanzata Ci siamo lasciati Quindi Non apparirà più negli short ragazzi E... E niente E' andata così Non vi ci affezionate Ok Comunque continuando a fare gli scambi in questo modo Io salgo di livello Purtroppo D'altra parte Non ho le librerie Quindi A che servirà A aumentare di livello? A niente Però D'altra parte ancora Una volta che io trovo gli occhi del land E arrivo nella fortezza del land Ragionate con me Lì ci sarà la biblioteca La libreria E a quel punto io Ciulo tutte le librerie che stanno nel land E a quel punto quindi Potrò Sfruttare i miei livelli Eh? Che ne pensate? Non è stupida come ragionamento Immagino Adesso sto spaccando questo legno Perché voglio fare gli stick Eh ragazzi Non è che sono scemo Perché non credo che queste Droppino mele Sono ciliegi Cherry Non possono Troppo ammine Dai Seriamente Seriamente parlando O magari 10.000 mele Ok facciamo tanti stick Facciamo Una cifra gigante di stick Perfetto Adesso facciamo scambi Illegali Con i villager Dove sono? Ecco Ricorda che belli che sono Dammi qua Tutto il tuo avere Ci sono alberi lì Ok Devo un attimo controllare Se ci sono mele Ma non credo perché io Non avevo lasciato nessuna foglia Quindi mi sa Mi sembra Quindi non possono esserci mele Non credo proprio Sentitemi Mi prendo anche questi erbiuscelli E me li metto vicino casa Così se vedo mele Eh Le vedo e basta E non disponono Perché metterli lontano Non ha senso Mi metto qua vicino Uno qua Così vedo tutto Quello che accade Uno me lo metto proprio Qua davanti Uno qua Uno qua Così ne mele si vedono Insomma Il clerico Dov'è? Mi serve Eccolo Si sta contemplando un po' il cielo Vedo un attimo quello che accade Ok Uno e due Dai Ti prego Sblocca qualcosa Ok Dai Prendo subito uno Top Top Ok Allora le vendono Allora perfetto ragazzi Allora possiamo Possiamo fare grandi pezzi Senza battere gli enderman Ragazzi Top Top Veramente top Molto bene Molto bene Molto bene Ragazzi vinciamo la serie Io ve lo dico vinciamo Abbiamo già vinto Il problema è che nel land Non si sa mai Se il drago ti Scaraventa A diecimila metri Di altezza Dopo lì Lì sarebbe bene Lì sarebbe bene avere più Perle del land Così se mi scaraventa In alto Io sono sicuro che Sparandola in basso Non muoio Perché alla fine Il bucket con l'acqua Non è sicuro al 100% Può capitare che non mi si piazza E io crepo Di danno da caduta Devo farmi un'altra Ascia Devo fare un'altra ascia Me la faccio al volo Me la faccio al volissimo Uno e là Perfetto Dammi qua questo Facchiamoci questa roba qui Tu hai lasciato qualcosa Pare proprio di no Perfetto Tu rimani qua Questi fiori russi Sembrano sempre mele Ma non sono mai mele Questa cosa non è Non è bella Non è assolutamente bella Facciamo altri scambi Illegali con i tipi Dammi qua Non ce l'ho Possiamo fare un'altra perla Un altro occhio Ragazzi ho avuto un'idea Strabiliante comunque Dov'è? Dov'è il tossico? Dov'è? Ma dov'è? Ma perché sparisce sempre quello? Non mi dica è morto Non mi dica è morto eh Non mi dica è tipo cascato C'è uno scredo lì pure Non mi dica è morto Dov'è? Ti prego clerico Lo dovevo rinchiudere Ho fatto una minchiata Non mi dica è morto Dov'è andato? Spero che non sia deceduto Perché altrimenti Bisogna ricrearci un altro clerico E rifare tutto da capo E ovviamente non è che ve la metto La procedura Taglio tutto Perché è noioso Ma dov'è? Ah sta lì Screanzato Mi fa prendere i colpi Dammi qua sta perla Prima che sia troppo tardi Tu senti Levati dalle valle tu Mettiti là giù Mi hai rotto proprio Mi stai Eh T'ho detto levati Vabbè senti È inutile Tutto inutile 10 smeraldi Uguali 2 perle Andiamo subito a prenderle Dammi qua le perle Perfetto 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 Siamo a 4 perle Dovremmo prenderne 12 Almeno Perché poi non è detto E mi sa che poi Ci servono anche altre blazerod Questa cosa non la volevo dire Ma te le può vendere lui? Mi sa che qualcuno li vende Comunque dei clerici Se è quello il caso Top Perché non ci voglio riandare Il nether Assolutamente no Quelli mi bruciano Mi devastano Non sono disposto a questo Non sono assolutamente Incline a voler andare Nel nether Per nessuna ragione Al mondo Non ci voglio andare Non obbligatemi a andarci E spaccati Non è una fine gloriosa Quella che sta facendo Quest'albero Però è quello che deve fare Ci ha droppato qualche mera qua? Assolutamente no Mi fa piacere Voi datemi il legno Cioè datemi gli smeraldi E io vi do il legno Perfetto Altri dieci smeraldi Altri due occhi Dammi qua Uno due E tu vai dentro Ragazzi qua la situazione Si fa molto carina Senti Fatemi spaccare Sto albero Che fastidioso Sta in mezzo Ai cosiddetti Dai eh Ok Altre otto Altre due perle Vieni qua Fratellino Anzi una Così dopo vedo Se mi dà gli sconti Vediamo un po' Poi bisogna vedere Anche se mi da Vieni qua No Non mi interessa Al resto Non mi interessa affatto Quindi dammi qua ste perle Ok ne ho otto Ci siamo quasi ragazzi eh Siamo a buon punto Cerchiamo di non colpire lui Che ci ammazza E' molto rischioso Avere un Iron Golem eh ragazzi Molto molto rischioso Avercelo vicino Perché se poco poco Ti sbagli E lo hiti Lui ti stermina in colpo E noi vogliamo questo No Fidatevi non lo vogliamo Ora bisogna aspettare Che le mele Scappino via da questo Spacchiamo pure sto albero qua Che sta in mezzo Alla cittadina Anche se faceva Bella figura Ma ci stermono gli stick Vieni qua Oh una volta è grosso sto albero Vieni qua Ok Spacchiamo tutto perché è bruttissimo Dammi qua sta roba Togliamo questi petali Mele 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 Niente mele Sticchetti si però Che ci servono anche loro Vai fratello Dammi qua Ok l'altro Niente non abbastanza Ok Però ho 8 smeraldi Altre due perle Ah il tipo dov'è Vieni qua Vieni qua signore Master pure Ma quanti scambi ci ho fatto Io ho 25 10 perle Ok Ok molto bene Che niente se andiamo a cercare il portale oggi Oggi cerchiamo il portale ragazzi Ve lo dico cerchiamo il portale Però non abbiamo Che cavolo sto facendo Però non abbiamo Oro Allo stesso tempo però Bisogna trovare le angurie Quindi se cercando il portale Troviamo delle angurie Prendiamo Due piccioni con una fava Si dice In inglese si dice Due uccelli con una pietra In italiano si dice Due piccioni con una fava Non mi chiedete perché Di questa traduzione Che non so Ne serve una traduzione in realtà Io penso che sia solo Lo stesso detto Non so C'era Shakespeare Che in realtà Aveva portato tanti detti Non inglesi In Inghilterra Sapete Tanti detti Sono simili all'italiano Anzi sono proprio La traduzione dell'italiano Perché lui Studiava anche Roba italiana ragazzi Non so cosa E non so perché nemmeno Ve lo sto dicendo Ma adesso lo sapete E lo dite ai vostri Compari E diranno Ma come fai a saperlo fratello Tu gli dirai Ci sta sto youtuber ragazzi Che è una bestia Emergente Che ci fa Imparare Ma Ma che fai Molto imbarazzante Quello che hai fatto Non mi guardare adesso Che cavolo Le persone ragazzi Ma che fai Invidioso che stavo a parlare con uno E poi venne l'altro Guardate E tu E no E mo me lo ridai Dammi qua E adesso mi dai pure la perla Vieni qua Stupido incosciente Do vai Vieni qua E mi dai una perla Sto a 11 perle ragazzi Oh ma Avete visto quante mele Io ho spaccato Quante alberi Ho spaccato E quante mele Ho ottenuto L'ho ottenuta una oggi Ragazzi Vi rendete conto Quanto sono rare le mele No 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 Meno male Infatti bedrock Bedrock non mi piace per quello Poi non mi piace bedrock Perché se premo Per esempio uno Non mi fa switchare così Questa cosa è molto Fastidiosa Sinceramente Parlando Dammi qua Prendo così Faccio così Perfetto Facciamo questi scambi Matti Non con te ma con te Perfetto Siamo a quello che dovevamo essere Tu spostati dalle palle Andiamo qui dall'ottimo Dal signore Dal fenomeno Prendiamo questa Perfetto Spostati Dammi qua E levati Adesso Trasformiamo tutto in così Facciamo Ah Gli occhi Gli occhi Perfetto E Però io mi devo riprendere Sto anambico È mio fratello E L'unica cosa Vabbè lui adesso è loccato Quindi se dovessi tornare qua Comunque Lui rimane così Ok Quest'albero non si spaccherà mai E che ne dite se andiamo a cercare Sto maledetto Sto maledetta fortezza Io penso che bisogna farlo Bisogna farlo assolutamente Ci mettiamo in un posto Dove vediamo La direzione Del Della nostra Del nostro occhio Dove va E direi che qua si può vedere Un po' la direzione Anzi ci mettiamo proprio là in mezzo Dai 3 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 9 9 10 12